Se l'amministrazione dell'ex sindaco di Teramo Gianni Chiodi decise per lo sventramento di Piazza Dante, luogo simbolo della città capoluogo, a favore di un parcheggio sotterraneo, lo fece per favorire l'afflusso di gente in centro storico. Un sacrificio enorme dal punto di vista urbanistico, mai particolarmente apprezzato dalla cittadinanza, ma che aveva quantomeno lo scopo di rendere pedonale il piano raso della piazza e restituirlo alle attività ludiche e culturali. Sono passati 12 anni da allora e solo recentemente il comune di Teramo è riuscito ad ottenere la liberazione degli stagli a raso, gestiti fino ad oggi dalla ditta costruttrice dei parcheggi sotterranei. Una pedonalizzazione totale prevista dal progetto iniziale che sarebbe dovuta avvenire tanto tempo fa, ma che adesso fa paura ai commercianti della zona. Siamo tutti d'accordo, commercianti di Piazza Dante, Via Carducci, zone limitrofe, che Via Carducci, Piazza Dante sono il gateway del commercio, del corso e di tutte queste zone centrali. E allora qual è la vostra proposta? Lasciare i parcheggi in Piazza Dante, a eccezione di quelli davanti ai 16-17 stalli di fronte al liceo classico, lasciare i parcheggi davanti alla Regina Margherita, oppure toglierli, ma a patto che venga riaperto a Regina Margherita come spazio fruibile. Per il sindaco d'Alberto la riqualificazione di Piazza Dante rappresenta un tassello importante della Teramo del 2026. Ci sarà gradualità nella pedonalizzazione. Il commercio del centro storico non subirà scossoni. Dobbiamo muoverci assolutamente nell'ottica della gradualità. Noi ereditiamo, lo sappiamo bene, insomma un progetto che prevedeva prima, non con questa amministrazione, la rimozione e la sostituzione dei parcheggi sul piano a raso. Oggi ci siamo ripresi il controllo amministrativo della piazza, un risultato straordinario dopo tanti anni in cui è stata lasciata l'abbandono, è stata sventrata. Adesso governiamo questo processo nell'ottica della gradualità, quindi una riqualificazione della piazza, come ho detto ieri ai commercianti, con una conservazione di una quota di parcheggi, soprattutto in questa fase, in questo periodo. Vedremo quale sarà il punto d'incontro sulla base di una progettualità e intanto ogni stallo che dovesse essere ridotto, già dei primi che abbiamo previsto, sostituito con delle misure compensative di sosta nelle aree e zone rimitrofe. Pensiamo ai tigli, su cui stiamo lavorando per recuperare gli stalli, un parcheggio a rotazione in centro storico per facilitare ovviamente anche la rotazione e quindi il ricambio. Abbiamo già avviato l'interlocuzione per l'area adiacente all'ex utap, quindi il punto d'incontro potrà essere sicuramente una riqualificazione, una rimodulazione che oggi governiamo noi con il concessionario per arrivare a una soluzione mista che consentirà di restituire dignità alla piazza senza perdere una quota di parcheggi. Grazie a tutti.